Sono Cristina, e la mia vita è cambiata notevolmente negli ultimi cinque anni di matrimonio con Paul. Eravamo probabilmente la coppia più ordinaria, senza drammi o scossoni particolari. Insegnavo a scuola, trascorrendo le mie giornate tra studenti, libri e un rigoroso programma di lezioni, mentre Paul lavorava come manager in un'azienda energetica, immerso nel suo mondo professionale fatto di riunioni interminabili e rapporti da compilare. Le nostre giornate erano prevedibili e la casa era un angolo accogliente e tranquillo, dove ogni sera rappresentava un rifugio sereno della frenesia quotidiana. Ma un giorno tutto cambiò. Accadde all'improvviso, come un colpo di vento inaspettato in una giornata serena. Il padre di Paul, uomo sempre energico e laborioso, lasciò questo mondo, lasciandosi dietro non solo il silenzio nella casa di famiglia, ma anche sua moglie, la madre di Paul, Elena. Sapevo che per poi suo padre era un esempio e un punto di riferimento importante, ma ancora di più lui era un figlio che si era sempre sentito sostenuto dalla presenza della madre. Dopo quella perdita, Paul iniziò spesso a riflettere su come vivesse Elena ora, su come affrontasse la solitudine. Una sera, mentre eravamo seduti in cucina dopo una giornata come tante, Paul ruppe improvvisamente il silenzio. Cristina, dobbiamo parlare, disse con voce bassa e decisa, molto diversa da quella che ero abituata a sentire ogni giorno. Distorsi lo sguardo dal telefono, colpita dal tono delle sue parole. «È successo qualcosa?» chiesi, osservando il suo bulto con il cuore in gola. Paul sospirò profondamente, come se si stesse preparando per una conversazione seria. Poi disse, «Riguarda mia madre. È rimasta sola in quella grande casa da quando papà se n'è andato. Credo che dovremmo considerare l'idea di trasferirci da lei». Quelle parole rimasero sospese nell'aria, e mi sembrò che il tempo si fosse fermato, e il mio cuore si estrinse e i pensieri cominciarono a vorticare disordinatamente nella mia mente. «Prasferirci!» da sua madre. In quella casa, piena di ricordi e fantasmi del passato, dove ci eravamo sempre sentiti ospiti, deglutii, cercando di controllare la tempesta di emozioni che sentivo dentro di me. «Prasferirci? Paul, ma ci siamo appena sistemati qui. Abbiamo la nostra vita, la nostra casa, dove ci sentiamo liberi». Cercai di obiettare, sperando che lui capisse. Ma Paul era irrimovibile. Il suo volto assunse un'espressione decisa e rispose con voce pacata ma ferma. «Christina, non si tratta solo di noi. Si tratta della famiglia. Mi sentivo in trappola. La domanda che mi girava in testa mi sfuggì dalle labbra prima che potessi fermarmi. «Paul, siamo noi a servire a tua madre, o sei tu che vuoi solo starle più vicino?» Paul addrottò le sopracciglia, come se le mie parole lo avessero colpito, toccando qualcosa nel profondo di lui. «Non è giusto», Cristina rispose lui sotto voce, ma nella sua voce si avvertiva già un'ombra di irritazione. «Non ti sto chiedendo di vivere in una discarica. La casa è grande, c'è abbastanza spazio per tutti noi». Le sue parole, apparentemente calme, non fecero altro che aumentare la tensione dentro di me. Capivo che aveva deciso di fare questo passo per sua madre, per quella responsabilità opprimente che sembrava incombere su di lui. E le mie obiezioni sembravano solo erigere un muro tra di noi. Alla fine, per mantenere la pace, accettai, cedetti, cercando di convincermi che sarebbe stata solo una situazione temporanea e che, in qualche modo, ce l'avremmo fatta. Il giorno del trasloco sembrava il preludio di una lunga e penosa epopea. Arrivammo alla casa di Hélène, questo imponente edificio antico, con grandi finestre, stanze echeggianti e un freddo inspiegabile che sembrava penetrare nelle ossa. Hélène ci accolse alla porta. Il suo volto mostrava un sorriso, ma in esso percepivo qualcosa di teso, innaturale. «Benvenuti nella mia casa», disse, e le sue parole suonavano come pietra dura e impenetrabile. «Spero che rispettiate il mio stile di vita». Le sorrisi in modo forzato, sentendo come una barriera di ghiaccio che si ergeva tra il suo mondo e il nostro, quasi tangibile. «Certo, Hélène. Apprezziamo molto chi ci abbia permesso di restare», risposi, cercando di mettere nelle parole un po' di sincerità. «Ma dentro di me cresceva già una sensazione di prigionia, come se le pareti di quella casa si stessero chiudendo intorno a me, soffocando la mia libertà. Vivere con Hélène era come vivere sotto il costante sguardo di un falco. I suoi occhi erano affilati, i suoi commenti frequenti e le sue osservazioni riguardavano ogni cosa. Da come sistemare i piatti a quante volte annaffiare le piante in giardino. Non perdeva mai occasione per ricordare che quella era la sua casa, le sue regole, la sua vita. Una sera, quando una delle sue critiche particolarmente severe sui miei modi di cucinare superò ogni limite, non riuscì più a trattenermi. Nella nostra stanza, tra le ombre tranquille del crepuscolo, esplosi. «Non riesco a fare nulla di giusto per tua madre, Paul. È come vivere con un trapano che non ti lascia mai un attimo di tregua». Paul si massaggiò le tempie, apparendo altrettanto esausto. «Christina cerca solo di darle tempo». «E' anziana e ormai abituata alle sue manie», rispose, quasi arrendendosi al mio sfogo come a qualcosa di inevitabile. Alzai le mani, ormai quasi disperata. «E quindi? Adesso dobbiamo camminare in punta di piedi intorno a lei per il resto della nostra vita», esclamai, sentendo l'irritazione crescere dentro di me. Paul non trovò nulla da rispondere. entrambi capivamo che non si trattava solo di una questione di caratteri. La casa di Len, con la sua sorveglianza continua, stava diventando una trappola, trasformando ogni giorno in una lotta di routine in cui perdevo sempre. E proprio quando mi sembrava di essermi abituata, di aver trovato un po' di stabilità in quel vortice quotidiano, Paul sconvolse di nuovo il mio fragile equilibrio. Era una pigra mattina di domenica, cercavo un po' di pace in giardino, godendomi la solitudine tra i fiori, quando lui mi si avvicinò. «Christina, dobbiamo parlare», disse a bassa voce, appoggiandosi al cancello e guardandomi con un'espressione in cui leggevo una determinazione nascosta. Alzai lo sguardo, e dentro di me sentii un nodo familiare allo stomaco. «Che cos'altro?» Paul chiesi stancamente. Feci un profondo respiro, come per prepararsi a un discorso difficile. Poi disse, «Credo che dovresti lasciare il lavoro e restare a casa». Scossi la testa, cercando di comprendere quanto lontano fossimo arrivati in questa strana vita che non riconoscevo più. «Quindi, questo è il mio nuovo ruolo», dissi, con un tono tremante che lasciava trasparire una sfida. «Diventare una domestica e un'infermiera a tempo pieno? Non è questa la vita che volevo», Paul. Paul mi guardò, e nel suo sguardo vidi una miscela di stanchezza e irritazione. «Christina, non si tratta di ciò che vogliamo, ma di ciò che è pratico. Dobbiamo essere qui per mia madre. Ha bisogno di noi», disse senza distogliere lo sguardo dalla recensione, come se stesse cercando di convincere se stesso. Non riuscì a trattenere un sorriso sarcastico. «È di te che ha bisogno, Paul. Io non ho mai firmato per fare la sua tutrice». Lui scattò subito, come una molla. «Tutto cambia, Cristina. Dobbiamo adattarci», disse, e il tono di rimprovero nella sua voce mi colpì come una lama. «Adattarsi, quella parola, suonò come uno schiaffo. La mia indipendenza, il mio lavoro che tanto amavo, tutto ciò che mi definiva. Sembrava dovesse comparire per questa adattabilità, come se dovessi sacrificare tutto sull'altare della praticità. Sospirai, cercando di mantenere sotto controllo le emozioni che si agitavano in me. «Va bene. Paul, lo farò. Ma non aspettarti che ne sia contenta», dissi, sentendo crescere la mia determinazione di fronte alla sua indifferenza. Lui a noi è un'espressione di sollievo gli attraverso il volto, come se avesse appena accettato di servirgli la cena, invece che di rinunciare a una parte di me stessa. «Grazie, Cristina. Significa molto», mormorò, ma non sentì alcuna vittoria. «Il mio lavoro era molto più di una semplice fonte di reddito. Era parte di me, e ora stavo lasciando andare quella parte, trovando la sensazione di aver perso un pezzo di me stessa. I giorni seguenti si trasformarono in una sorta di servizio continuo. Mi immersi nella vita domestica, assumendomi il ruolo di casalinga, badante e cuoca, mentre Lynn continuava a osservare ogni mio gesto con attenzione, come se fossi una sua allieva da educare. Non perdeva occasione per fare un commento su qualcosa. Fosse anche il dettaglio più insignificante, come le tende, che secondo lei necessitavano di un lavaggio o la minestra, che, a quanto pareva, era troppo salata. Mi sentivo prigioniera di un processo infinito di correzioni e modifiche. Un giorno, però, la sua critica ragionse il limite. Mi guardò con disapprovazione mentre stiravo i suoi vestiti, lanciandomi una battuta sprezzante sulla scetteria del mio metodo. Qualcosa dentro di me si spezzò. «Hélène, potresti per favore smettere?» «Sto facendo del mio meglio», dissi, sentendo la frustrazione e il risentimento in ogni parola. Sembrava colpita, dimenticando per un attimo la sua solita critica. «Beh, scusa se ho degli standard», Cristina rispose con una voce fredda come una lama. Serravo le mani, cercando di non scoppiare in lacrime. «Non sono la tua serva, Hélène. Sono la moglie di tuo figlio. Cerco di aiutarti, ma tutto quello che ricevo in cambio sono critiche». Seguì un silenzio teso, ma sul suo volto apparve qualcosa di insolito, un'ombra di ammorbidimento. Sospirò e la sua voce si fece un po' più calda. «So che ti stai impegnando, Cristina? È solo che sono abituata a certe cose, ed è difficile cambiare. La mia tensione si allentò un po', e annui, sentendo nascere tra noi una piccola scintilla di riconciliazione. Capisco, Hélène, ma io non sono te. Ho il mio modo di fare le cose». Da quel giorno tutto divenne un po' più semplice. Hélène imparò a moderare le sue critiche, e io cercai di adattarmi alle sue abitudini. Tra noi si instaurò una tregua fragile, che, per quanto tesa, era comunque migliore dei continui scontri. Tuttavia, l'atmosfera in casa continuava a opprimermi, ogni giorno più tesa e soffocante. Anche Paul stava cambiando, sembrava svanire davanti ai miei occhi, diventando sempre più distante e chiuso. Notavo come evitava il mio sguardo, nascondendo i suoi pensieri dietro una maschera di silenzio, finché una sera, non sopportando più quel peso, lo misi alle strette in cucina. «Paul, cosa sta succedendo?» Chiesi, appoggendomi al bancone, con le braccia incrociate e fissandolo intensamente. «Non sei quasi mai qui, e quando ci sei, sembri un estraneo, come se non fossi più mio marito». Paul continuava a mescolare distrattamente il suo caffè, evitando di incrociare il mio sguardo. «È solo un incubo», Cristina disse infine, gettandomi uno sguardo fugace prima di ritornare a fissare la sua tazza. «Sono troppo stress». Mi appoggiai indietro, aggrottendo le sopracciglia per la preoccupazione. «Anche io sono sotto stress, Paul, ma sembra che ti stia isolando da me, da tutto. Sei qui, ma è come se non ci fossi davvero», aggionsi, sperando che sentisse il mio disperato bisogno di un dialogo. Paul sospirò profondamente, come se cercasse di raccogliere i pensieri, ma il suo sguardo rimase ancorato alla tazza, come fosse un ancora che lo teneva a gallo, impedendogli di affondare in quella conversazione. Rimasi di fronte a lui, colpita dalle sue parole che sembravano lacerare la trama abituale della nostra vita, come un'eclissi improvvisa. «Non so cosa vuoi che dica», Cristina, disse, accarezzando distrattamente lo stipite della porta, come se cercassi conforto in quel gesto. «Sono solo molto impegnato». In tutto questo, la sua voce si incrinò, come se nemmeno lui riuscisse a trovare le parole giuste. Avrei voluto credere che comprendesse davvero ciò che stavo vivendo, ma nel profondo sentivo che dietro al suo distacco c'era qualcosa di più, qualcosa di cui non parlava. E più ci pensavo, più aumentava la mia inquietudine. A peggiorare le cose, c'era sua sorella Lucy, che appariva regolarmente a casa nostra, quasi per il suo scopo di aumentare la tensione. Dal momento in cui varcava la soia, osservava ogni angolo della casa, non perdendo occasione di diridere la sua atmosfera silenziosa e antiquata. Ancora bloccati in questa vecchia e lububre casa, eh, aveva sbuffato Lucy un giorno, con una voce piena di scherno e un leggero tono di disprezzo. Trattenevo la lingua, cercando di non reagire alle sue offese. Ma un giorno andò troppo oltre, e non riuscì più a trattenermi. Non tutti hanno il lusso di vivere alla grande e giudicare gli altri, Lucy, risposi, con voce firma, anche se dentro di me tutto ribolliva. Lucy risse forte, la sua arroganza trasodava da ogni parola. Oh, guarda un po', ora sei una martire nella casa infestata, disse con sarcasmo, e la sua risata era aspra, irritante, come una lama affilata. Serravo la mascella, cercando di soffocare il flusso di parole che voleva uscire. E come sempre, Paul rimase in silenzio, senza difendermi, osservando passivamente le nostre schermagne verbali. Il suo silenzio mi sembrava un altro colpo freddo, un ulteriore conferma di quanto fossimo diventati distanti l'uno dall'altra. Ma il vero cambiamento accadde un giorno con Elena. Inaspettatamente, chiamò Lucy. La sua voce era debole e impotente, quasi disperata. Lucy, ho bisogno di aiuto per il bagno, non ce la faccio più da sola. La reazione di Lucy fu fredda, come una pioggia gelida in una stanza vuota. Arrangiati da sola, mamma, non sono la tua infermiera, rispose bruscamente, senza nemmeno voltarsi. Elena scoppiò in lacrime, le spalle tremavano, e, nonostante tutti i nostri momenti difficili, non potevo lasciarla in quello stato. Mi avvicinai e l'aiutai ad alzarsi, sostenendola fino al bagno. Da quel giorno, qualcosa cambiò tra noi. Per la prima volta, Elena mi guardò non come un'estranea o un'ospite indesiderata, ma con qualcosa che somigliava alla comprensione e persino alla drattitudine. Da allora iniziò a mostrarmi un'affettosità che prima non avevo mai visto in lei. Col passare del tempo, giorno dopo giorno, sentivo che lei mi trattava sempre più come una figlia, non come una domestica. Era un cambiamento difficile, ma quel filo sottile di simpatia e comprensione addolcì l'atmosfera della casa, almeno per un po'. Tuttavia, per quanto ciò mi riscaldassi, paradossalmente la nuova armonia non faceva che sottolineare quanto Paul fosse ormai un estraneo per me. Più miglioravano i miei rapporti con Elena, più la nostra casa diventava fredda e vuota. Il silenzio tra Paul e mi diventava quasi inquietante, rimbombando come un eco che si infrangeva contro le pareti vuote. I nostri dialoghi si trasformarono in semplici scambi formali, parole fugaci che non portavano con sé il minimo accenno di complicità di un tempo. Paul si tratteneva sempre più spesso al lavoro, e le sue notti fuori divennero la norma. Quando finalmente rientrava, sentivo che non era realmente lì. Il suo pensiero sembrava lontano, come perso altrove. Un giorno, dopo l'ennesima conversazione priva di senso, Paul pronunciò qualcosa che ruppe definitivamente il fragile equilibrio della nostra vita. Stavo riordinando i piatti in cucina quando lui, quasi distrattamente, disse. Cristina, ho affittato un appartamento vicino al lavoro. Rimasi a bocca aperta, quasi lasciando cadere il piatto per la sorpresa di quella missione improvvisa. Hai affittato un appartamento? Ripetè incredula, cercando una spiegazione sul suo volto. Paul annui, in piedi vicino allo stipite della porta, evitando di incontrare il mio sguardo. È semplicemente pratico. Cristina rispose come se fosse la cosa più ovvia del mondo. È più comodo per andare al lavoro, soprattutto la sera tardi. Dentro di me esplosero rabbia e confusione. Lo fissai, come se stessi guardando uno sconosciuto. E hai preso questa decisione senza nemmeno parlarne con me. Cosa siamo adesso? Paul. Coinquilini? La mia voce trimava per la delusione e il dolore, ma lui si limitò a stringersi nelle spalle. La sua indifferenza era dolorosamente glaciale. Pensavo saresti stata contenta. Così hai meno ragioni per preoccuparti quando torno tardi, disse, con il tono di chi sta parlando di un affare logico. Scossi la testa incredula, realmente sconvolta, felice. Paul, sembra che tu stia vivendo una doppia vita. E poi? Sossovrai disperata. Mi dirai che hai un'altra famiglia? Paul sospirò, passandosi una mano sulla fronte, irritato, come se stessi dicendo delle assordità. Non fare la drammatica, Cristina, rispose lui, con voce fredda e distante. Non aveva alcuna intenzione di spiegare, e sapevo che la conversazione era finita. Ormai era diventato uno schema abituale. Le nostre conversazioni si riducevano a frecciatine brevi, senza significato né profondità, come litigi con uno sconosciuto. Il vero shock arrivò più tardi, quando ormai mi stavo quasi abituando all'idea che le nostre vite fossero separate. Qualche giorno dopo, io e Delaine eravamo seduti in salotto, condividendo un raro momento di tranquillità. Nei suoi occhi c'era una tristezza che non le avevo mai visto prima. Lo sai che Paul non ha comprato quell'appartamento con i suoi soldi? Chiese improvvisamente, rompendo il silenzio. Alzai lo sguardo su di lei, leggermente sorpresa. Cosa intendi? Delaine sospirò, abbassando lo sguardo sulle sue mani che stringevano una tazza. Ha usato i miei risparmi. Ha detto che sarebbe stato un investimento, e l'ha addirittura intestato a me. Non mi guardava, ma le sue parole risuonavano nel silenzio come un campanello. Dentro di me qualcosa si spezzò. Paul aveva usato i risparmi di sua madre. Non potevo credere che lei avesse accettato. E questo ti va bene, Helen? Chiesi, incapace di nascondere il mio stupore. Helen fece un triste cenno di assenso. Il suo sguardo si riempì dall'ombra di antichi rimpianti. È mio figlio, Cristina. Non potevo dirgli di no, ma ho pensato che fosse giusto dirtelo. Quelle parole mi lasciarono senza parole. L'appartamento segreto di Paul era già una notizia pesante, ma l'utilizzo dei risparmi di sua madre, sotto la scusa di un investimento, era più di un semplice inganno. Era il crollo dell'immagine che avevo costruito di Paul. L'uomo che avevo sposato si stava dissolvendo, trasformandosi in un estraneo pieno di segreti e bugie. Per alcuni giorni cercai di capire come affrontarlo. Finalmente, trovando il coraggio, decisi di parlare. Paul, perché non mi hai detto che hai comprato quell'appartamento con i soldi di tua madre? La sua risposta fu fredda e indifferente, il suo tono quasi strontato. Perché sapevo come avresti reagito, Cristina. È un investimento, nulla di importante. La fissai inurridita, senza credere alle mie orecchie. Stai giocando con i risparmi di tua madre e lo nascondi a me. La mia voce tremava, ma non riuscivo a fermarmi. Cos'altro stai nascondendo? Lui si voltò, come se quella conversazione non avesse per lui alcun valore, e con un gesto sprezzante agitò la mano. Non capiresti, Cristina. È business. Business, quella parola, rimase sospesa tra noi come un abisso. Un termine che suonava come una gestificazione a tutto ciò che stava andando storto nel nostro matrimonio. Paul sembrava usare il pragmatismo degli affari come uno scudo per i suoi comportamenti, creando una distanza insormontabile tra noi. Tutto ciò che accadeva in quella vecchia e malinconica casa di Ellen iniziava a soffocarmi. Le pareti, che un tempo mi sembravano misteriose e maestose, ora erano piene di ombre minacciose e dell'eco della mia fiducia infranta. Sentivo che ogni angolo della casa costudiva segreti cupi, e l'atmosfera stessa diventava insostenibilmente pesante. Una mattina, durante la colazione, mi decisi a dire ciò che da tempo mi passava per la testa. Ellen, hai mai pensato di fare qualche ristrutturazione in casa? Chiesi con cautela, non gli farebbe male un po' di freschezza. Ellen si fermò, distogliendo lo sguardo dalla sua tazza, e mi guardò sorpresa, come se avessi proposto qualcosa di impensabile. Ristrutturazione? Ripetè, come se la parola fosse strania e insolita. Non ci pensavo da anni. È un compito così grande. Annui, sentendo una scintilla di entusiasmo accendersi dentro di me. Lo so, ma potrebbe davvero trasformare questo posto, risposi con un leggero sorriso. Magari potremmo iniziare con una nuova mano di vernice o scegliere delle carte da parati più vivaci. Ellen sembrava riflettere. Il suo sguardo si posò distruttamente sulle vecchie pareti, impregnate di tanti ricordi. Beh, penso che sarebbe bello dare un po' di vita a questa casa. Ma sei sicura di essere pronta? A noi, con piacere, pregustando il lavoro che mi aspettava. Assolutamente. Porterà dei cambiamenti. E penso che faranno bene a tutti. E così inizia la mia piccola rivoluzione. Mi immersi nella ristrutturazione. Dipinsi le pareti con tonalità chiare e fresche. Scessi nuove carte da parati con motivi che portarono un po' di calore e persino tentai di restaurare alcuni vecchi mobili. Non era facile. Mi stancavo. Le mani si riempivano di vernice. Ma sentivo di dare nuova vita a quel posto, di restituire alla casa un senso di accoglienza e calore. E, in un certo senso, questo ridava vita anche a me. Mentre stavo completando un nuovo strato di vernice, esausta, Paul entrò nella stanza. Si fermò, sbalordito, e il suo volto si contorse tra stupore e indignazione. Che diavolo stai facendo? Cristina? Cosa stai facendo alla casa di mia madre? La sua voce era colma di disapprovazione e rabbia. Mi alzai, asciugandomi il sudore dalla fronte, cercando di nascondere l'irritazione. Sto facendo dei lavori? Paul. Ho detto a Helen che la casa ha bisogno di un po' di amore e cura, risposi, cercando di mantenere la calma. Il viso di Paul si indurì, e nei suoi occhi brillò un lampo di rabbia. Non avevi il diritto di cambiare qualcosa senza consultarmi. Questa è la casa della nostra famiglia, non un luogo per i tuoi esperimenti. Rimasi pietrificata, cogliendo nel suo tono un'accusa implicita. Mi stava accusando di prendere troppe iniziative, come se non capissi che lui stesso da tempo si fosse allontanato da quel luogo. Paul, e quando è stata l'ultima volta che ti sei preso cura di questa casa? Chiesi, senza nascondere il rimprovero nella voce. Sto facendo qualcosa di buono qui. Sto cercando di trasformare questo posto cupo in una casa accogliente, non in un museo. Forse, se passassi più tempo qui, lo capiresti. Paul fece un passo avanti. La sua voce si alzò fino a diventare un sussurro rabbioso. Stai di nuovo prendendo il controllo, Cristina. Fai sempre così. Allontani gli altri e fai tutto a modo tuo. Non credevo alle mie orecchie. Prendere il controllo? Tutto ciò che desideravo era dare a questo luogo una speranza, ridargli vita. Le mie emozioni affiorarono, e prima che potessi rispondere, entrò Elen nella stanza. C'è cos'è tutto questo rumore? Chiese. Il suo sguardo era sorpreso e preoccupato. Paul si girò bruscamente verso sua madre, chiaramente intenzionato a usarla come alleata. Lo sapevi? Sapevi che lei sta cambiando tutto qui? Elen guardò prima me e poi Paul. Il suo sguardo era calmo ma fermo. Sì, Paul, lo sapevo, rispose con tono bacato. E sono contenta che Cristina se ne stia occupando. Questa casa aveva bisogno di cambiamenti, e lei sta facendo un lavoro meraviglioso. Paul sembrava colpito come da uno schiaffo. Ma, mamma, questa è la nostra casa di famiglia. Cominciò, ma Elen lo interruppe, con voce decisa e risoluta. È la mia casa, Paul, e voglio che Cristina faccia ciò che ritiene giusto. Ha pienamente ragione. Paul uscì dalla stanza, lasciando Cino in silenzio opprimente. Provavo una strana combinazione di sentimenti. Sogliavo per il sostegno di Elen e allo stesso tempo tristezza per un'ulteriore conferma della distanza ormai incommabile tra me e Paul. La casa, sebbene iniziasse a trasformarsi, diventava sempre più fredda e vuota per noi due, come se le nostre emozioni stessero scomparendo tra le sue mura. Tuttavia, un evento inatteso cambiò di nuovo tutto. Elen fu colpita improvvisamente da un ictus, e la nostra vita si capovolse. Ero accanto a lei nel momento in cui perse conoscenza, le sue parole divennero indistinte, e il suo corpo si indebolì. Mi prese il panico mentre chiamavo aiuto, con la voce tremante per la paura e l'impotenza. In ospedale mi trovai di fronte a una realtà dura, e la Nora aveva bisogno di curi continue. Lei, donna forte e incrollabile, era diventata indifesa, dipendente da ogni piccolo gesto. Mi rivolsi a Paul in cerca di sopporto, sperando nella sua cura, nel suo affetto per la madre, ma trovai solo un freddo muro di indifferenza. Cristina, non posso farcela. Ho già abbastanza cose di cui occuparmi, disse con una voce fredda come i dieccio d'inverno. Ero sconvolta dalla sua indifferenza. Non puoi farcela, Paul, è tua madre, dissi, senza riuscire a nascondere la denusione e il dolore. Paul si limitò a stringersi nelle spalle, e la sua risposta, piena di freddezza e disprezzo, mi trafisse come una lama affilata. Sì, e lei è stata un peso per anni. Questo è solo il colpo di grazia. Nelle sue parole c'era una crudeltà che non avrei mai immaginato. Sentii ribollire dentro di me una profonda indignazione. Un peso? Sussurrai, trattenendo a stento le lacrime. Lei non è un peso. Paul, è la tua famiglia. Ha bisogno di noi. Il suo riso era amaro e asciutto. Non di noi, Cristina. Ha bisogno di te. Io ho altre preoccupazioni. Rimasi senza parole. Tutto il rispetto che nutrivo per lui svenì, dissolto in quel dialogo amaro. Decisi così di occuparmi io stessa di Elena. Fu una decisione difficile e dolorosa. Vedere quella donna forte e indipendente costretta a letto, dipendente da aiuti per ogni piccola necessità, mi spezzava il cuore. Paul appariva nella nostra vita solo di rado. Le sue visite si fecero sempre più sporadiche. E anche quando veniva, i suoi discorsi con Elena erano brevi e superficiali, quasi indifferenti. Poi, un giorno, arrivò Lucy. Li sorpresi in salotto. Lei e Paul parlavano a bassa voce, ma sentivo ogni parola, che mi feriva come veleno. Dobbiamo iniziare a pensare al testamento e alla divisione dei beni, disse Lucy, con una voce fredda come le sue intenzioni. Entrai nella stanza, sentendo la rabbia montare dentro di me come un'onda. Come potete essere così senza cuore? State discutendo del suo testamento proprio ora? È ancora qui, con noi, esclamai, sentendo la rabbia vibrare nelle mie parole. Lucy sboffò, con un sorriso tagliente e sprezzante. Guarda un po' chi abbiamo qui, la Santa Nuora, disse velenosa. Questa è una questione di famiglia. Cristina, stanni fuori. Paul mi guardò freddamente e aggiunsi, con un sarcasmo evidente. Cristina, smettila. È una questione di praticità. Bisogna fare dei piani. Non si può fingere che tornerà quella di prima. Rimasi scioccata dalla sua crudeltà. Pratico? Sossorrai, come se avessi perso la capacità di parlare per lo shock. È tua madre, Paul. Come puoi essere così insensibile? Lui si strinse nelle spalle. Il suo sguardo era freddo e vuoto. Questa è la realtà, Cristina. È meglio che ti abitui. Dopo quella conversazione, mi allontanai da Paul, come se una barriera invisibile ci separasse. Il mio cuore era pesante per il dolore e il disgusto, ma decisi che non avrei abbandonato Elena. Mi dedicai completamente alla sua guarigione e, con mia sorpresa, presto iniziò a mostrare segni di miglioramento. Le sue dita iniziarono a tremare leggermente. La sua parola si fece più chiara. E un giorno riuscì persino a fare qualche passo. Fu un piccolo miracolo, un dono che mi scaldava il cuore. Ma per Paul e Lucy quel miglioramento era più un fastidio che una gioia. Non nascondevano più il loro vero atteggiamento. La condizione di Len non era altro che un peso, un ostacolo sgradito sul cammino verso l'eredità. Quel tradimento mi ferì più di ogni altra cosa, come se si infrangessero non solo i legami familiari, ma anche il semplice rispetto umano. La vita in quella casa divenne una monotona e coperotina. La salute di Len era come delle montagne rosse, piccole vittorie seguite da nuove difficoltà e paure. Poi ci fu un altro ictus, questa volta più grave e devastante. La chiamata dall'ospedale fu come un pugno nello stomaco. Le parole del medico mi colpirono, togliendomi il respiro. Len non ce l'aveva fatta. Se n'era andata. Il funerale fu una cerimonia coppa e silenziosa, priva di quei sorrisi e parole calde che di solito accompagnano chi ha lasciato un ricordo luminoso. Stavo accanto alla sua tomba, e il mio cuore era pesante, come se un masso si fosse posato sul mio petto, impedendomi di respirare. Osservavo le persone che, una dopo l'altra, rendevano omaggio a Len, alcuni con un cenno rispettoso, e sembrava che, nonostante tutte le difficoltà, la sua partenza avesse lasciato un vuoto. In quel momento vidi Paul, e accanto a lui c'era una donna che non conoscevo. Due bambini piccoli si aggrappavano alle sue mani. La testa cominciò a girarmi per lo shock improvviso, per un senso di ansia inspiegabile che mi attraversò. Chi è lei? Sussurrai tra me, incapace di distogliere lo sguardo dalla sconosciuta. Paul si avvicinò a me, con un'espressione sul viso che non riuscivo a decifrare. Christina, Laia Carroll, mia moglie, disse, la sua voce fredda, priva di qualsiasi emozione. E questi sono i nostri figli. Quelle parole, pronunciate a bassa voce e con sicurezza, si abbatterono su di me come un martello. Sua moglie. Rimasi paralizzata, cercando di metabolizzare quanto avevo appena udito. Tua moglie? Quando è successo? Paul. Chiesi, sentendo la rabbia e il donore mescolarsi nel mio cuore. Lui si strinse nelle spalle, senza traccia di rimorso negli occhi. Non sono affari tuoi, Christina. Persi la capacità di parlare. I pensieri vorticosi si susseguivano nelle mie menti, confusi e rabbiosi. Tutti quegli anni in cui ero stata accanto a sua madre, prendendomi cura di lei, e per tutto quel tempo lui viveva una vita parallela, nascondendomela, come se io non fossi altro che un'ombra temporanea nel suo mondo. Lucy era lì accanto, e il suo solito sorriso sarcastico ora rivelava tutta la sua malizia. Cristina, che interpreti la parte della nuora addolorata, sibila o velenosa. Non è un po' troppo tardi? Mi voltei verso di lei, e nel mio tono si percepiva il disprezzo, nato da anni di risentimento accumulato. Io ero qui per Ellen, quando voi l'avete abbandonata, risposi, fissandole intensamente. Non osare giudicarmi. Paul sbuffò, e la sua voce fredda attraversò l'aria come una lama affilata. Mettiamo fine a tutto questo. Abbiamo altre questioni da discutere, disse con impazienza malcelata. Terminate le esecue, ci dirigemmo alla casa di Ellen, dove, come previsto, si sarebbe tenuta la lettura del testamento. Tra le ombre delle vecchie mura si percepiva un silenzio carico di aspettativa, e ogni passo rimbombava sotto le volte delle stanze. Paul e Lucy sembravano abultoi, avidi, in attesa della loro parte. Sedevano tesi, con un'attesa a malapena nascosta, come se dovesse giungere per loro il momento del trionfo. L'avvocato aprì il testamento e iniziò a leggermi. La sua voce era calma, ma ad ogni parola sentivo che qualcosa di inquietante cresceva tra di noi. E infine arrivò il momento in cui si rivelò il contenuto del testamento. Tutti i beni, la casa, il denaro, tutto ciò che apparteneva a Ellen era stato lasciato a me. Il volto di Paul si congelò in un'espressione di autentico shock, prima compiaciuto e sicuro di sé. Ora si contorceva come se il mondo intero gli fosse crollato addosso. Ma che diavolo? Non è possibile! La sua voce tremava di rabbia e incredulità. Lucy impallidì, le sue labbra tremavano per la furia. Non può essere vero! Era nostra madre! Come è potuto lasciare tutta questa, donna inutile? Esclamò, senza nascondere il disprezzo. Rimasi lì, sbalordita e confusa, senza sapere come reagire. Tutto questo sembrava un sogno strano, dove gioia e dolore si fondevano lasciando dietro di sé solo un senso di vuoto. Paul si voltò verso di me, con gli occhi pieni di rabbia e il tono carico di accuse. Hai manipolato nostra madre, l'hai messa contro di noi, sputò, e le sue parole erano appuntite come veleno. Scossi la testa. La mia voce era un misto di incredulità e rabbia. Non ho fatto altro che prendermi cura di lei. E questo è più di quanto si possa dire di voi due, risposi, guardandolo con fermezza. L'avvocato, notando il crescente tumulto, intervenne, cercando di riportare la calma alla riunione. Con voce ferma, concluse la lettura. Helen è stata molto chiara nel suo desiderio. Lucy ribolliva di rabbia, il suo volto era paonazzo, e la sua voce vibrava di odio. Non è ancora finita. Lo contesteremo, non le permetteremo di farla franca. Si bilò, con lo sguardo pieno di fuoco. Paul era accanto a lei, scuro e freddo, senza guardarmi. Quando entrambi uscirono di casa, sbattendo la porta, rimasi sola, rendendomi conto che quel posto, per leggi, ora mi apparteneva. Mi guardai intorno lentamente. I miei pensieri erano colmi di ricordi e di un pesante senso di responsabilità. Quelle pareti, impregnate di anni di dolore, tradimento e amore, ora sembravano diverse, quasi riflettendo le ultime volontà di Elena. Mi sedetti sulla vecchia poltrona di Elena, stringendo il testamento al petto, cercando di comprendere il suo ultimo atto di gentilezza e il peso che portava con sé. Per Paul e Lucy, questa eredità era diventata un motivo di odio, e sapevo che non si sarebbero fermati facilmente. Tuttavia, per me, quell'eredità non era un trionfo. Era un ricordo di ciò che la famiglia avrebbe potuto essere, ma che ormai non sarebbe mai stata. Il giorno seguente, Paul e Lucy tornarono, tieni di odio e sete di vendetta. Entrarono in casa, infuriati, e Paul cominciò a parlare ancora prima di varcare dentro tutta la soglia. Pensi davvero di poter semplicemente prendere tutto? Esplose, avvicinandosi a me, il volto deformato dalla rabbia. Lo guardai, sentendomi stanca ma risoluta nella mia decisione. È stata la scelta di Elena, Paul. È stata la sua volontà. Lucy arrossì di collera e urlò, quasi strillando. Hai ingannato una povera vecchia malata. Non ti lasceremo passare la liscia. Mi alzai, incapace di sopportare oltre quel flusso di menzogne. Sono stata io ad esserle vicina, a differenza di voi due. È stata una sua decisione lasciare tutto a me, perché sapeva che davvero mi prendevo cura di lei, risposi pacchettamente, anche se il mio cuore era impriso di dolore e rabbia. Paul mi lanciò uno sguardo furioso. Il suo volto era scuro di ira. Quindi pensi di aver vinto? Pensi di poter rubare tutto ciò che appartiene alla nostra famiglia? Sospirai, stanca. Non ho rubato nulla, Paul. Elena mi ha lasciato tutto. Mi ha lasciato tutto perché sapeva che mi prendevo cura di lei quando voi non c'eravate. Le loro grida continuavano, sempre più forti, come un disperato tentativo di soffocare la verità. Ma erano solo rumori, impotenti di fronte alla realtà. Sapevo di essere stata accanto a Elen quando loro erano assenti, e la sua decisione di lasciare tutto a me era pienamente consapevole. Allora l'avvocato, ancora presente alla riunione, inserì una chiavetta USB nel computer e abbia un video. Lo schermo si riempì dall'immagine di Elen, e la sua voce si diffuse nella stanza, calma e sicura, ma piena di tristezza. Lascio tutto a Cristina, perché è stata per me come una figlia. Lei c'era sempre, anche quando i miei stessi figli non erano vicini. Se lo merita. La stanza cadde in un silenzio assoluto. Paul sembrava colpito come da un pugno allo stomaco, mentre Lucy, realizzando l'inevitabilità di quanto stava accadendo, iniziò a piangere, comprendendo che tutto ciò che avevano fatto li aveva condotti solo a questo finale. Le mie azioni e parole si erano rivelate più forti delle loro accuse vuote. Dopo di ciò, Paul e Lucy se ne andarono. Le loro minacce rimasero semplici parole, portate via dal vento del loro stesso disappunto. Rimasi sola nella grande casa antica, circondata dai ricordi dei molti anni passati, che ora sembravano far parte di me. Pensai all'ombo al futuro. La decisione di divorziare da Paul arrivò in modo naturale, come una conclusione silenziosa ma inevitabile di tutti gli eventi. Fu difficile, ma necessario. Paul e la sua nuova famiglia dovettero trovare un'altra casa, mentre Lucy finì per affogare nei suoi debiti e nelle conseguenze delle sue scelte sbagliate. Io rimasi nella mia nuova casa, provando tristezza ma anche un nuovo sentimento, un senso di forza. Elen mi aveva lasciato non solo una casa e dei soldi. Il suo testamento mi parlava della necessità di essere forte, di non temere di ricominciare da capo. La casa, che un tempo era stata un simbolo di tempi difficili, ora assumeva un nuovo significato, diventando un luogo per iniziare una nuova vita.